Il clima di ottimismo che fino a pochi mesi fa si respirava in Fiat a Termoli è improvvisamente e drasticamente cambiato. Ad agosto i primi segnali con i contratti non rinnovati per 150 interinali. A settembre poi la decisione di ridurre i turni di lavoro a causa del calo della produzione. Ora la nuova comunicazione incontrata rivolta del Re torna alla Cassa Integrazione. Non succedeva da tre anni, per questo la notizia è stata accolta con grande preoccupazione sia dai lavoratori che dai sindacati. Per ora il periodo è breve, si tratta di dieci giorni dal 29 ottobre al 7 novembre e lo stop forzato riguarda il reparto cambi con 429 lavoratori di cui 400 operai e 29 impiegati. La contrazione dei volumi produttivi dunque continua sul settore in cui si produce il cambio C520 anche come diretta conseguenza di scelte aziendali quali il fermo della produzione d'agosto dell'appunto così come del motore diesel della Panda. Scontata la ripercussione sull'impianto di termoli dove si producono tra l'altro proprio i componenti per le due utilitarie. Negli uffici e tra le catene di montaggio l'aria è tesa, i dipendenti hanno paura di ripiombare nell'incertezza. Per questo la segreteria territoriale della Wilm sta per chiedere un esame congiunto come previsto dal contratto collettivo per capire l'entità delle ricadute produttive anche alla luce del nuovo riassetto organizzativo di FCA che ha visto anche la nomina di Pietro Gorlier a capo della regione MEA che si occupa di progettazione, produzione e distribuzione e vendita dei veicoli in Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Secondo la Wilm è importante anche un incontro in azienda per una valutazione complessiva della situazione. È necessario attuare il piano industriale annunciato il primo giugno dall'alloro amministratore delegato Sergio Marchionne, ha dichiarato la Wilm, a partire dalle nuove tecnologie come ibrido ed elettrico per cercare di capire quali nuovi prodotti potrebbe realizzare l'impianto di termoli. Intanto c'è la sensazione che i periodi di cassa integrazione non si fermeranno qui.